La storia di un mondo ossessionato dai beni materiali La storia dell'acqua in bottiglia La difficoltà nel cercare di usare meno cose è che a volte ci sembra di averne davvero bisogno. Che fareste se vivesse ad esempio a Cleveland e voleste un bicchiere d'acqua? Rischiereste e lo prendereste dal rubinetto? O cerchereste una bottiglia d'acqua che proviene dalle foreste pluviali delle Fiji? Beh, il marchio di acqua Fiji ha pensato che la risposta a questa domanda fosse ovvia, così hanno fatto un'intera campagna pubblicitaria su questo. E' stata una delle mosse più stupide nella storia della pubblicità. Alla città di Cleveland non piacqua essere oggetto di scherno della Fiji, così hanno fatto dei test e, indovinate, questi test hanno mostrato che un bicchiere d'acqua Fiji è di qualità inferiore, perde ai test del gusto rispetto all'acqua del rubinetto di Cleveland e costa migliaia di volte tanto. Questa storia è tipica di quando si fa il confronto tra acqua in bottiglia e del rubinetto. E' più pulita? A volte sì, a volte no. Per molti versi l'acqua in bottiglia è meno regolamentata dell'acqua del rubinetto. E' questione di gusto. Nei test del gusto in tutta la nazione la gente preferisce sempre l'acqua del rubinetto e l'acqua in bottiglia. Le aziende imbottigliatrici dicono di assolvere solo le richieste dei consumatori, ma che richiederebbe un prodotto meno sostenibile, meno gustoso e di gran lunga più costoso, specialmente quando lo si può avere praticamente gratis in cucina. L'acqua in bottiglia costa duemila volte tanto quella del rubinetto. Vi immaginate pagare duemila volte tanto per qualunque altra cosa? Che ne dite di un panino da diecimila euro? Eppure le persone negli Stati Uniti acquistano più di mezzo miliardo di bottiglie d'acqua ogni settimana. Sono abbastanza per circondare il mondo oltre cinque volte. Come si è arrivati a questo? Beh, tutto si rifà a come funziona la nostra economia dei materiali e è uno dei suoi fattori chiave conosciuto come domanda costruita. Se le aziende vogliono continuare a crescere, devono continuare a vendere sempre più bene i materiali. Nei anni 70 i grandi produttori di bibite si preoccuparono di non vedere stabilizzarsi le loro prospettive di crescita. C'è un limite alla quantità di soda che una persona può bere. Inoltre dopo poco la gente avrebbe capito che non è così salutare e sarebbe tornata a bere acqua del rubinetto. Quindi le aziende trovarono un'altra grande idea in un prodotto dal design sciocco che i più derisero come una moda di passaggio. L'acqua è gratis, rispose la gente. Cos'altro vogliono venderci? L'aria? Quindi come riuscire a vendere questo prodotto di nicchia? Semplice, si costruisce la domanda. Come si fa? Beh, immaginate di essere a capo di un'azienda di acqua in bottiglia. Siccome le persone non fanno la fila per scambiare i loro soldi duramente guadagnati con prodotti inutili, li fai sentire impauriti ed insicuri qualora non li avessero. Ed è esattamente quello che ha fatto l'industria dell'acqua in bottiglia. Una delle loro prime tattiche di marketing è stata spaventare la gente a consumare l'acqua del rubinetto con annunci come quelli della campagna Fiji. Quando avremo finito, disse un dirigente dell'acqua in bottiglia, l'acqua del rubinetto sarà relegata alle docce al lavaggio dei piatti. Poi nascondi la realtà del tuo prodotto dietro immagini di pura fantasia? Avete mai notato come l'acqua in bottiglia cerca di sedurci con immagini di rivoli di montagna e natura incontaminata? Ma indovinate da dove proviene un terzo di tutte le bottiglie d'acqua dei USA? Dal rubinetto. L'acqua fina della Pepsi e la Dasani e della Coca-Cola, ad esempio, sono solo acqua del rubinetto filtrata. Ma la bugia della natura incontaminata va ben oltre. In un recente annuncio a tutta pagina, la Nestlé ha detto L'acqua in bottiglia è il prodotto consumer più rispettoso dell'ambiente al mondo. Che cosa? Stanno distruggendo l'ambiente per l'intero ciclo di vita del prodotto. Di preciso come è rispettoso dell'ambiente. Il problema inizia qui, con l'estrazione e la produzione, dove il petrolio è usato per fare le bottiglie di plastica. Ogni anno, fare le bottiglie utilizzate dagli USA consuma petrolio ed energia sufficiente per fare il pieno a un milione di auto. Tutta quella energia spesa per fare le bottiglie, ancora di più per trasportarle in giro per il mondo e poi la esauriamo in circa due minuti. Il che porta al grande problema all'altro capo del ciclo di vita, lo smaltimento dei rifiuti. Dove finiscono tutte queste bottiglie? L'80% va in discarica dove rimarranno per centinaia di anni, oppure in inceneritori che le bruciano rilasciando sostanze tossiche. Il resto è raccolto per il riciclo. Ero curiosa di sapere dove finiscono le bottiglie che metto nella raccolta differenziata. Ho scoperto che carichi navali le portano in India. Allora ci sono andata. Non dimenticherò mai, quando guidando verso Madras, sono arrivata faccia a faccia con una montagna di bottiglie di plastica dalla California. Il vero riciclo trasformerebbe queste bottiglie in altre bottiglie, ma questo non è ciò che stava avvenendo qui. Invece queste bottiglie erano destinate ad essere peggio ciclate, cioè trasformate in prodotti di minor qualità, destinati a diventare rifiuto in seguito. Le parti che non possono essere peggio ciclate vengono buttate qui, trasportate fino all'India solo per essere scaricate nel giardino di qualcun altro. Se le aziende di acqua in bottiglia vogliono usare le montagne nelle loro etichette, sarebbe più appropriato mostrare queste montagne. Spaventarci, sedurci e indurci in errore. Queste strategie sono tutte parti chiave di costruire la domanda. Una volta che hanno costruito tutta questa domanda creando un nuovo mercato plurimiliardario, lo difendono massacrando la concorrenza. Ma in questo caso la concorrenza è il nostro diritto umano fondamentale, bere acqua pulita e sicura. Il vice di Pepsi ha detto pubblicamente, il nemico più grande è l'acqua del rubinetto. Vogliono che pensiamo che è sporca e che quella in bottiglia è la migliore alternativa. In molti posti pubblici l'acqua è inquinata grazie ad aziende inquinanti come l'industria delle bottiglie di plastica. E questi tizi dell'acqua in bottiglia sono molto felici di offrire le loro costose soluzioni che ci mantengono schiavi dei loro prodotti. È tempo di tornare al rubinetto. Cominciamo con l'impegno personale di non comprare o bere acqua in bottiglia, a meno che l'acqua nella vostra comunità non sia davvero insalubre. Sì, ci vuole un po' di organizzazione per prendere una bottiglia riusabile uscendo di casa, ma possiamo farcela. Quindi, andiamo al passo successivo. Prendiamo parte a una campagna che lavori per soluzioni reali, come richiedere investimenti in acqua del rubinetto pulita per tutti. Ne usa l'acqua del rubinetto in debito di 24 miliardi di dollari, in parte perché la gente pensa che l'acqua da bere provenga solo da una bottiglia. In tutto il mondo, proprio ora, un miliardo di persone non ha accesso ad acqua pulita. Eppure ovunque, le città stanno spendendo milioni di dollari per gestire la plastica delle bottiglie che buttiamo. Come sarebbe se questi soldi fossero spesi per migliorare i nostri sistemi idrici o ancora evitare l'inquinamento che da essi proviene? Ci sono molte altre cose che possiamo fare per risolvere il problema. Richiedere all'autorità cittadina di rimettere le fontane, lavorare per bandire l'acquisto di bottiglie d'acqua nella tua scuola, nel tuo ente o intera città. Questa è un'enorme possibilità di svegliarsi per milioni di persone e proteggere il portafoglio, la nostra salute ed il pianeta. La buona notizia è che tutto questo è già iniziato. Le vendite dell'acqua in bottiglia hanno iniziato a crollare, mentre gli affari stanno esplodendo per le bottiglie riutilizzabili. Wow! I ristoranti stanno servendo acqua del rubinetto e la gente sceglie di risparmiare le centinaia di migliaia di dollari che starebbe altrimenti buttando via con l'acqua in bottiglia. Portare con sé acqua in bottiglia sta per diventare figo come fumare incinta. Ora sappiamo che c'è di meglio. L'industria dell'acqua in bottiglia si sta preoccupando perché è finita la pacchia. Noi non compreremo più grazie alla loro domanda costruita. Grazie, ma ora sceglieremo noi le nostre richieste e richiederemo acqua sicura e pulita per tutti. Grazie.